Musica Insieme per una nuova edizione del telegiornale di Unica Sondra Vediamo insieme le principali notizie della giornata A partire dalle Olimpiadi Livigno è al lavoro in vista dei giochi a 5 cerchi invernali del 2026 Il sindaco Remo Galli fa il punto ai nostri microfoni sulla situazione Spiegando gli interventi in corso sia dal punto di vista delle infrastrutture Che da quelle della viabilità E poi ci occuperemo del forum Ambrosetti Perché si terrà a Bormio venerdì e sabato Il forum Ambrosetti in cui si parlerà della filiera agroalimentare Con i maggiori produttori del settore E' atteso anche il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida Al via il corso di specializzazione triennale per i medici di base La SST è stata individuata A quale punto polo formativo o punto formativo locale Sono stati accolti 5 partecipanti L'obiettivo naturalmente è quello che restino a lavorare in valle Ma vediamo insieme i servizi iniziando a parlare di Olimpiadi Livigno è al lavoro per le Olimpiadi Invernali 2026 Il sindaco Remo Galli fa il punto delle opere in corso Per migliorare le infrastrutture e la viabilità E' una situazione che continua a evolvere Ce la stiamo mettendo tutta Devo ringraziare tutti gli enti dalla provincia Alla regione, agli assessori Massimo Sertori Che ci stanno aiutando a portare avanti queste procedure molto complicate Purtroppo la burocrazia soffoca in Italia Ma non possiamo sbagliare L'Olimpiadi sarà nel 2026 Abbiamo l'orgoglio di essere partiti con la prima opera Grazie a Enel Aterna di questa cabina primaria Che cambierà la sostenibilità anche elettrica del nostro territorio Darà una sicurezza elettrica Poi abbiamo tante opere che si stanno concludendo Uno su tutti l'altro giorno abbiamo approvato il progetto definitivo Del parcheggio dell'area Mottolino Che permetterà di togliere quel bruttissimo parcheggio nella piana Ridare il verde ai nostri agricoltori E fare veramente un'opera che sia sostenibile Sia da un punto di vista ambientale, sociale ma anche economico Quindi sarà davvero importante Poi ci sono tante opere Proprio oggi ci richiamo in Regione Lombardia Per trattare il tema della forcola E del miglioramento della viabilità verso Livigno Anche in ottica olimpica Quindi tanti temi da affrontare Ma ce la stiamo mettendo tutte E sono sicuro che l'Italia e Livigno faranno bene Bormio è pronta per ospitare il settimo forum Intitolato la roadmap del futuro per il food and beverage Organizzato da The European House Ambrosetti Venerdì 9 e sabato 10 giugno Andrà in scena l'evento finale della community food and beverage Settore che comprende tutte le aziende che producono e distribuiscono Genere alimentari di cui fanno parte 39 Tra aziende e istituzioni di livello nazionale e internazionale A cui è atteso anche il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida Viviamo da ormai tre anni in una condizione di crisi permanente Dettata dall'emergenza covid Dalle tensioni internazionali E dal cambiamento climatico Afferma Valerio De Molli Managing Partner and CEO di Ambrosetti Un contesto in cui la filiera agroalimentare deve essere tutelata per mantenersi strategica The European House Ambrosetti ha scelto Bormio la Valtellina Per il suo settimo forum del settore Territorio che solo nel 2022 Ha generato un valore di 277 milioni di euro Di produzioni agroalimentari certificate Sondrio, diciannovesima provincia in Italia Per impatto economico della filiera E anche la quindicesima per qualità della vita Un connubio di eccellenze creato attraverso l'impresa Sono 2.345 Quelle attive sul territorio Di cui 195 nel food and beverage L'occupazione con oltre 5.700 addetti nel settore L'export con più di 151 milioni di euro E la cultura con oltre 42 prodotti agroalimentari tradizionali Solo da questa provincia Provengono il 90% delle mele prodotte in Lombardia L'80% dalla produzione nazionale di Bresaola E con 850 ettari di vigne e 2.500 chilometri di muretti a secco La Valtellina è il più grande vigneto terrazzato d'Italia Nonché icona della viticultura eroica È Veronica Baruta, la nuova responsabile donna impresa col diretti Per la provincia di Sondrio E prende il posto di Lucia Giacomelli Baruta, classe 1992 Residente a Castionetto di Chiuro È apicoltrice e viticoltrice Il comitato regionale ha provveduto Deleggere due vice responsabili Oltre a Lucia Giacomelli di Grosio Altra vice è Monica Lanfranchi di Val di Dentro Angelo Cesana, proprietario dell'azienda agrituristica Le case dei bar di Ardenno È invece stato rieletto presidente provinciale di Terra Nostra L'associazione che rappresenta gli agriturismi di Coldiretti Sondrio E ora parliamo della grave carenza dei medici E dei medici di base Guardiamo il servizio e le altre notizie Al via il corso triennale per la formazione di medici di medicina generale E pediatri di libera scelta A partire dall'anno formativo 2023-2024 Infatti l'SST Valtellina e il Tolario È stata individuata quale polo formativo locale Il direttore generale Tommaso Saporito Con il direttore sociosanitario Paolo Formigoni E la referente ospedaliera del corso Alessandra Rosso di Vita Ha accolto i cinque tirocinanti Quattro donne e un uomo Che per i prossimi tre anni Seguiranno le lezioni teoriche affronteranno il tirocinio Negli ospedali locali, servizi territoriali E gli studi medici di medicina generale Il percorso formativo si svolge interamente in provincia di Sondrio Con modalità diverse per quanto riguarda le lezioni in presenza online Sono molto contento per la scelta di questi giovani Alcuni dei quali già specializzati E con precedenti esperienze in struttura ospedaliere Sottolinea Saporito In questi tre anni avranno modo di conoscere il nostro territorio E noi potremo motivarli affinché rimangano a lavorare in valle Una volta conseguita la specializzazione Uno di loro è già operativo a Bormio Per incentivarli a restare Per soddisfare le richieste dei cittadini Per la medicina di base Metteremo a disposizione le case di comunità Prosegue l'aiuto della provincia di Sondrio Alle persone colpite dall'alluvione in Emilia Romagna I volontari di protezione civile sono tuttora al lavoro Siamo stati attivati da Regione Lombardia Per l'emergenza alluvione Quindi abbiamo portato le attrezzature Per il movimento terra richieste da Regione Lombardia Motopompe, elettropompe, furgoni ribaltabili E abbiamo selezionato tra i volontari Le competenze richieste Quindi autisti, autocarro con movimentazione della gru Macchine movimento terra, moduli di antincendio boschivo AIB Per il lavaggio delle strade Delle superfici inondate dal fango E anche volontari generici che hanno grandissima utilità Bisogna dare merito al volontariato di protezione civile Della provincia di Sondrio Che ha dimostrato grandissima sensibilità su questa emergenza Tant'è che noi abbiamo richiesto le disponibilità Il sabato 20 e nel giro di poche ore Gli otto turni previsti Di cui confermati sette Si sono subito riempiti E quindi abbiamo dimostrato ancora una volta solidarietà Bisogna ringraziare innanzitutto Il coordinamento della provincia di Sondrio Con i sette componenti che si sono messi a disposizione Come responsabili di ciascun turno La provincia di Sondrio Che organizza e coordina E mette a disposizione materiali, mezzi e attrezzature E anche coordinamento regionale Dal quale noi abbiamo le indicazioni principali Per poterci muovere verso l'Emilia Romagna Anche gli alpine sondresi sono all'opera Per l'Emilia Romagna ci siamo attivati subito Sono già partite le nostre squadre Che sono andati giù Praticamente a pulire A pulire e a dare una mano In quelle strutture In quelle abitazioni Dove c'era la necessità Ma non è solo questo che stiamo facendo Perché come sede nazionale È già partita una sottoscrizione Per l'Emilia Romagna Quelle sottoscrizioni che fanno gli alpini In queste occasioni Sono cose importanti Perché vorremmo poi lasciare A tempo opportuno Quando è finita l'emergenza In Emilia qualche cosa di concreto Non so, costruire degli asili Costruire delle strutture Come abbiamo fatto In tutte quelle zone terremotate Del nostro territorio Che in questi anni Purtroppo Continuano ad esserci Il passaggio dalla milanesiana a Sondro Offre la possibilità Di visitare Fino al 27 luglio La mostra di Igor La storia di Tetiana Igor è uno dei più grandi disegnatori Di fumetti Che ci sono in Europa ormai Però è anche un artista Come molti di loro È anche un artista E quindi a pieno merito Un pezzo di questi suoi quaderni ucraini La storia di Tetiana Viene esposto come se fosse Perché è di fatto un lavoro d'arte Ed è un lavoro d'arte Tanto più Quanto più È un tema da lui sentito Perché Igor è sardo È italiano Ma è sposato con una donna ucraina E ha nel suo passato Dei forti legami con la Russia Quindi quel conflitto Quell'invasione È un po' come se gli fosse capitata dentro E questi quaderni ucraini E questa storia di Tetiana Lui li rappresenta Certo Per una pubblicazione Ma in realtà Le tavole originali Sono opere d'arte Riuscendo a fare una cosa molto difficile Per un pittore Cioè mettendo in scena il buio E tutte le gradazioni di nero Che il buio contiene Che non è mai nero assoluto Ma è molto molto difficile Veramente molto difficile Da rappresentare E in questa piccola mostra In realtà Dà prova di questa sua maestria Un'esposizione particolarmente sentita Per il tema che tratta Da parte della comunità locale E siamo molto contenti E grati a Elisabetta Sgarbi Per questa mostra Che ci ha riservato Una mostra di un valore sociale Molto importante Per la nostra comunità Perché è Ahimè Ispirata anche Da fatti tragici Nei confronti Della comunità Ucraina Che comunque La nostra comunità Sondriese Ha accolto In maniera molto forte Molto generosa E' una tematica Molto significativa Che ben Si avvicina Alla tematica Dei ritorni Che è la tematica Della melanesiana Di quest'anno Quindi siamo all'interno Di una rassegna Culturale Nazionale Di importanza nazionale Che tocca Più di 20 città italiane E il fatto di Poter offrire La città di Sondrio Un momento Di questa pregnanza Culturale E' un grande orgoglio Per l'amministrazione comunale In chiusura Vi lascio Alle splendide Immagini Di itinerari L'appuntamento Consueto Del mercoledì Vediamo insieme Una breve anticipazione Vi ricordo Che potete Seguirci anche Sui social E vi invito A restare sempre con noi E io mi trovo già Qui al rifugio Schiazzera 2079 metri Di altezza Questa è l'Alpe Schiazzera E pensate che Questo rifugio È gestito Dai volontari Dell'operazione Mato Grosso La caratteristica Di questo rifugio È l'atmosfera Conviviale Gioviale Infatti qua Siamo in un luogo Simbolo Cosa si fa qua? Il falò Benissimo Però qua vedo Che la legna Scarseggia un po' Ragazzi Cosa facciamo? Andiamo a prenderla Andiamo Sì Vai Andate E prendetele Tanta che voglio Un bel fuoco grande Siamo tutti volontari Ognuno dà Il suo tempo Secondo le proprie capacità Disponibilità Ad esempio Il cuoco Questa settimana È uno psicologo Il tutto Col fine Di raccogliere Dei fondi Da mandare Le nostre Missioni Dell'operazione Mato Grosso Che sono in Perù Ecuador Bolivia E Brasile Ed eccoci arrivati Finalmente In cima Al Masuccio È stata Una bella Ascesa Mattia Questa è la Montagna Che preferisci? Eh sì Questa è un po' La montagna di casa Da qui la vista È spettacolare Dall'Adamello Al gruppo Il Bernina Dietro le nostre spalle Tutta la bassa Valtellina E poi L'Alta Valtellina L'Alta Valtellina